Oggi in commissione stiamo assistendo all'ennesimo teatrino di una maggioranza spaccata, già alle corde dopo pochi mesi, sul progetto di legge numero 33 riguardanti opere irrigue per la zona del Fucino, nello specifico della zona di Trasacco, si è assistito ad un qualcosa di straordinario, per non dire allucinante. Una parte della maggioranza, cioè la Lega ha dichiarato di non sapere che cosa era stato presentato dalla stessa maggioranza, ha disconosciuto questo dispositivo, rendendosi conto che insieme a questo progetto di legge erano inseriti all'interno una serie di emendamenti a dir poco scandalosi, come un finanziamento di 50 mila Euro per arredo scolastico per un comune della Marsica o 500 mila Euro per il consorzio Civeta e insieme a tante altre questioni economiche distribuite qua e là. Dispiace che dentro c'è un emendamento meritevole che è stato ecclissato da questa serie di emendamenti improponibili, che era l'emendamento per la Coppa Interamia, quindi stiamo lottando per salvare questo importante finanziamento che era stato già concordato nel precedente Consiglio, ma c'è da registrare che la maggioranza a pochi mesi ancora una volta dimostra di non sapere che direzione prendere e di non conoscere i provvedimenti che vengono discussi in Commissione. Io ho dichiarato nella stessa Commissione, durante la discussione generale, che tali atteggiamenti, tali comportamenti sono rinvenibili presso gli istituti scolastici superiori, perché questo è il livello a cui stiamo assistendo, quindi sono preoccupato per l'Abruzzo e per gli abruzzesi.